Ciao a tutti, questo è per l'open777 e benvenuti in questa nuova parte dell'erotoranked Siamo qui con un team completamente nuovo, tranne che per Arcanine, il quale non ho saputo rinunciare e niente, direi subito di iniziare con le lotte, nel frattempo vi dico quello che devo dirvi vale a dire che questo team l'ho fatto veramente in poco tempo, diciamo in un'oretta, credo, qualcosa di simile quindi penso che questa prima lotta, anzi queste prime lotte di questo primo episodio siano abbastanza complicate per noi, soprattutto perché il team è abbastanza sbilanciato dal punto di vista offensivo, infatti ho veramente dei mostri a livello offensivo in questo team ve ne renderete conto poi durante le lotte, quindi devo prenderci un po' di confidenza ancora non ho avuto modo di giocarvi se non un paio di partite su showdown, proviamo a vedere com'è comunque siamo subito contro Riko, una giapponese contro Riko porterei questo team, vale a dire tagliamo fuori Mailotic e Silvali ah, anche Mailotic è uguale a quello che avete visto soltanto nello scorso episodio naturalmente mi spiaceva portarlo soltanto in episodio e ho deciso di reinserirlo all'interno di questo team il mio lead sarà di Wimsicott e Zorkitri se non sbaglio sì, mi sembra di aver scelto questa coppia prevedendo un Coco Garchomp che ultimamente non vedo più spessissimo perché è praticamente sempre così e infatti iniziano Pelipper e Tapu Coco, magnifico vediamo quindi l'elettrogenesi di Tapu Coco, è un lead che va molto bene a me ad essere onesti andrei quindi per il Forza Lunare su quel Pelipper prevedendo magari un cambio in Garchomp mentre tu vai per il Fulmine su quel Tapu Coco che non dovrebbe fargli granché ma sono nel campo elettrico, ho un attacco speciale molto elevato insomma, voglio rompere un eventuale Sasha avversario che sia su guardate che danno, guardate che danno, altro che non molto efficace Coco quindi se ne va per il Magi Brillio strano che sia rimasto in campo quel Pelipper alla Sorbi Sfera, notiamo, Forza Lunare può partire quindi rompiamo un Sasha avversario l'avversario chi aveva preso come avversario del suo attacco? non lo so, fatto sta che il mio è un Pokémon full attacco speciale vento in coda da parte avversaria, interessante come mossa andrei quindi a bloccarlo proprio in questa mossa mentre noi andiamo per un altro Fulmine indirizzato su Coco, quasi quasi ci proviamo? ma sì, proviamoci, vediamo come viene questa cosa Wimsicott usa ripeti, quindi l'avversario viene bloccato nel vento in coda e mi domando, sarò più lentosi di quel Tapu Koko, quasi sicuramente in effetti è proprio così, parte un Magi Brillio da parte avversaria Magi Brillio butterà giù il nostro Wimsicott e purtroppo anche Xurky Tree non mi aspettavo di vederlo andare giù purtroppo così e ora la mia domanda è è sufficiente a buttarlo giù il danno dall'Eye Forb? purtroppo no, avete visto come è sbilanciato questo team in un attimo sono andati K2 Pokémon quindi Arcanine presentati subito sul campo di battaglia e con esso che si presenti anche il mio Delmice vediamo quindi la prepotenza di Arcanine fare, calar gli attacchi avversari e che cosa fare? andiamo per un extra rapido su quel Tapu Koko perché sì intanto l'avversario è bloccato in vento in coda e con te ci proverai quasi quasi con un Vigor Colpo su quel Pelipper vediamo chi entra in campo al posto suo non penso rimanga in campo in effetti viene ritirato chi entra? chi entra? Garchomp fantastico perché è proprio forse chi speravo entrasse perché gli faremo un buon danno se riusciamo a mandare a segno il colpo extra rapido intanto è sufficiente a buttare giù quel Tapu Koko che quindi lascia il campo di battaglia e quindi Vigor Colpo non fallire fortunatamente non lo fa e quindi colpiamo abbastanza duramente il nostro avversario e facciamo una buona metà vita di danno che è sempre sempre comodo siamo con la Salt Vest su Delmice specifichiamolo man mano che schiero i Pokémon vi dirò gli strumenti che hanno le cose che hanno così imparate a conoscerli pian piano comunque ho perso la barba per ragioni di cosplay andrei per un extra rapido su quel Pelipper perché immagino sia sufficiente a buttarlo giù mentre tu vai per il Vigor Colpo su Garchomp quasi quasi sì facciamolo facciamolo vediamo un po' come va a finire ho troppa paura del tifone e quindi parte l'extra rapido è sufficiente a buttare giù Pelipper come mi aspettavo ora sei andato per la mossa Z? no è un terremoto normale la mia domanda è posso reggerlo? con Delmice naturalmente sì con Arcanine anche magnifico Arcanine sei una bestia per questo non ho mai rinunciato a te Delmice tra l'altro subisce anche un brutto colpo parte quindi il Vigor Colpo Vigor Colpo non fallisce Garciom Plusha il campo di battaglia rimaniamo soli contro due contro un Pokémon scusate del mio avversario quindi Garciom Plusha il campo di battaglia come abbiamo detto e l'ultimo Pokémon chi è? tra l'altro non c'è più il vento in coda questo potrebbe essere utile per me Celestila magnifico magnifico anche il fatto che è accaduto il vento in coda questo perché mi dà l'opportunità di andare per un'ultima fiamma violenta su quel Celestila e perché no un'ombra artiglica stab ed è effetto normale sempre su quel Pokémon naturalmente nonché unico Pokémon che posso colpire purtroppo c'è la pioggia la pioggia è qualcosa che non ho preso troppo in considerazione potrebbe darmi qualche fastidio le Fiamme e i Dark Knight vanno a spegnersi parte un peso bomba peso bomba indirizzato su il mio Delmice che non regge il colpo dannazione non regge il colpo questa proprio non ci voleva e Ultra Boosty Celestila fa sì che aumenti il suo attacco dannazione un Celestila offensivo e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare andrei per no questa lotta la perdiamo andrei per un cazzo questa lotta la andiamo veramente a perdere forse avrei dovuto aspettare un turno in più per andare per il mio ultima fiamma mi aspettavo che fosse un Celestila standard ultimamente però in effetti se ne vedono di particolare andiamo per il Fuoco Fatuo comunque così proviamoci anche se l'avversario ha gli avanzi e niente va anche a proteggersi scottiamo quindi l'avversario anche se è soltanto un'ultima fiammata prima di andarcene K.O soprattutto dopo il nerf subito dalla scottatura quindi parte peso bomba immagino sia comunque sufficiente a buttarci giù soprattutto anche in virtù del fatto che è danno neutro e quindi Arcanine lascia il campo di battaglia subito una sconfitta con questo team una sconfitta in realtà che è stata veloce perché questa lotta comunque è stata abbastanza veloce abbiamo perso subito i nostri primi due Pokémon l'avversario poi ha perso i suoi due di conseguenza insomma è stata una lotta abbastanza rapida che però siamo andati a perdere soltanto su 1-0 quindi comunque è abbastanza buona soprattutto perché ho detto che con questo team mi devo ancora abituare penso possa fare buone cose l'avversario ancora non è perfetto dovrò sistemare qualcosina dovrò abituarmi soprattutto a giocare questo team perché è veramente molto fragile e se sbaglio una giocata rischio veramente di rimandare tutta l'aria comunque vediamo se riesco a ribaltare la situazione magari con una seconda lotta prima non so neanche che musica ho messo mettiamo quella di Ridio 15 vittorie e 11 sconfitte veramente stiamo facendo un po' schifo negli ultimi episodi e eccoci qui ok ok team dell'avversario particolare schiererei il mio Arcanine quasi quasi subito in campo Xurkytree, Arcanine, Silvally e Elmise non so se ho fatto la scelta giusta ci proviamo comunque e siamo contro a Rororaina andiamo subito a vedere i lead avversari ma immagino che come al solito sarò io il primo a schierare i Pokémon in campo e invece no Silvally e Ninetales ho fatto questo mio lead proprio nell'eventualità di vedere un Silvally da parte avversaria come lead perché? perché i Silvally esplodono e lo so perché il mio esplode quindi ho fatto questa scelta appunto per questo ho portato quindi Arcanine che è l'unico mio Pokémon credo con la protezione è qualcosa di veramente stranissimo in un team VGC ma come ho detto è veramente molto molto sbilanciato però a sti cazzi mi piace quindi andiamo per Invertivolt su Silvally perché sono sicuro che non andrà a proteggersi almeno questo presentimento e protezione su Arcanine andiamo vediamo un po' che cosa riesco a combinare in questo caso nel caso in cui Silvally andasse per il danza spada comunque gli farei un buon danno Arcanine va a proteggersi e non vedendo la protezione di Ninetales mi sto iniziando a preoccupare Invertivolt quindi può partire Invertivolt colpisce quel Silvally gli fa un buon danno il circuito ritorna da me e manderei in campo il mio del mais quasi quasi o il mio Silvally addirittura ma quasi quasi mando in campo il mio Silvally perché se Arcanine se Ninetales non è andato a proteggersi significa che l'avversario non è andato per l'esplosione giusto? e se così non fosse a me sta benissimo mandare in campo Silvally e infatti è andato per la mossa Z mossa Z di tipo ghiaccio sì crio distruzione polare crio distruzione polare immagino sia indirizzato su il mio Silvally quello che adesso è Silvally no Arcanine fantastico perché mi sono pure protetto che se aspettasse uno Switch non lo so ho fatto stacca a me sta benissimo così perché non ho preso nulla di danno e tra l'altro si attiva il mio pulsante fuga quindi possiamo far entrare un Pokémon a scelta Xurkitree un'altra volta Xurkitree per forza e il del mais avversario però non l'abbiamo visto ancora per cosa è andato per il Silvally avversario scusate non l'ho visto ancora per che cosa è andato andiamo a vedere esplosione no davvero si fa esplodere mi fa esplodere tutti i Pokémon non ci credo non ci credo l'avversario è un kamikaze di merda Silvally però regge il colpo attenzione Silvally regge il colpo la grandine sarà sufficiente a buttarlo giù è il mio timore più grande spero di no spero non sia così Xurkitree subisce un brutto colpo tra l'altro non so se è influito immagino di no perché è veramente violento un Silvally che esplode e reggilo per favore ce la fa bravissimo il mio Silvally e a questo punto chi mandare in campo Arcanine perché no perché è l'unico con protezione quindi può stare abbastanza bene in coppia con Silvally Sanshryu da parte avversaria e con Sanshryu chi entrerà in campo Crocodile quindi facciamo calare gli attacchi avversari dopo che switcho subito il mio Silvally dal campo Sanshryu al palloncino abbiamo notato il prepotenza di Arcanine si attiva facciamo calare gli attacchi avversari devo switchare il mio Pokémon dal campo perché se riuscissi a far andare via questa grandine sarebbe abbastanza bello per me ma dovrei reggere quattro turni e quattro turni sono davvero molti cioè niente proviamoci andiamo in campo il Medelmice mentre tu Arcanine andrai per un'ultima fiamma indirizzata a su Sanshryu proviamoci proviamoci subito così al volo vediamo che cosa succede Silvally quindi viene ritirato dal campo di battaglia entra in campo la mia ancora preferita che avrei dovuto mandare in campo prima per evitare l'esplosione purtroppo non me l'aspettavo più avendo visto io il Ninetales o l'attacco avversario sale al massimo questo è abbastanza problematico quindi Crocodile va per il terremoto non è effetto su Sanshryu ma ha effetto sugli altri due e Delmice sarà in grado di reggerlo spero di sì e in effetti è proprio così bravissimo Delmice andiamo quindi per un vigor colpo su quel Crocodile mentre tu vai per un'esplosione ma comunque penso che quel Sanshryu butterà giù il mio Silvally prima che io possa fare qualcosa giusto metal testata indirizzata su attenzione Delmice ok perdo comunque forse per via dell'esplosione però sti cazzi ah no Crocodile addirittura mi outspeed e quindi il terremoto è libero di partire e a questo punto ciao ciao bene una doppia sconfitta non è esattamente quello che volevo vedere per iniziare subito con questo team onestamente soprattutto perché è un team che non mi dispiace è abbastanza divertente da utilizzare magari non così quello che mi ha fregato in questa seconda lotta è stato il vedere quel Ninetales non andare per la protezione è stata una giocata veramente rischiosa da parte avversaria anzi un suicidio da parte avversaria perché era perfettamente consapevole del fatto che sarebbe andato capò quel pokemon e questa cosa mi ha confuso non ho mandato in campo il mio del maise e la lotta è stata compromessa totalmente perché perdendo Zurchitri ho fatto veramente non potevo far nulla ero a portata di grandine addirittura ero a portata degli attacchi di un Sanceru e quindi niente GG al mio avversario spero nel prossimo episodio di poter riscattare un pochino l'onore di questo team che veramente non si merita un inizio del genere ma comunque penso siano state delle lotte comunque piacevoli da vedere perché non le abbiamo perse in maniera così brutale direi alla fine ce la siamo combattuta in entrambi soprattutto nella prima quindi se il video di oggi vi è piaciuto un invito come sempre lasciate un bel mi piace di iscrivervi se non l'avete fatto soprattutto condividerlo noi ci vediamo al prossimo ciao 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 Grazie a tutti.